ho visto che ti sei fermato nella rete vedi perché c'è la rete no basta piegale indietro senti com'è dura la mia frizione senti la mia frizione è il doppio della prima minchia vero proprio le punte e spingi il più possibile ma che bella la rete sì è un po' non è la tua giornata oggi no proprio no ti deve impegnare a fondo oggi perché sennò non va cazzo non è la giornata trappa trazione per difesi non è la tua giornata non è la tua giornata non è la tua giornata